L'unico modo per liberarvi di una tentazione è cedervi Oscar Wilde. Nessun matrimonio è uguale a un altro. Ognuno è la somma di desideri, progetti, aspirazioni che contraddistinguono la coppia di innamorati. L'hotel Centro Congressi San Luca vi propone una rosa di servizi, tutti curati nei minimi particolari, per rendere indimenticabile il vostro giorno speciale. L'hotel con le sue 10 sale al coperto e 3 inserite in un parco di 12.000 metri quadri, dotato di una piscina ed un laghetto, offre una seducente cornice naturale ed un'atmosfera calda ed elegante, ideale per festeggiare e brindare al giorno più bello della vostra vita. E' qui che i tuoi eventi assumono magicamente il fascino dell'esclusivo. Ed il sogno diventa realtà. Ed il sogno diventa realtà.